Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi mostrerò come completare una delle sfide della seconda settimana della stagione 4 di Fortnite che vi chiede di danzare sulle teste delle sentinelle decedute, o meglio disattivate, nel cimitero delle sentinelle. Il cimitero delle sentinelle si trova praticamente qui, vedete? Anche perché ci sono delle sentinelle disattivate non potete assolutamente sbagliarvi. La sfida è semplice alla fine, potete farla in qualsiasi modalità, quindi anche rissa squadre. Dovete praticamente scendere qui o raggiungere la destinazione in un secondo momento e danzare su tre differenti teste. Quindi qui ci sono diverse sentinelle, ve ne bastano tre, scegliete voi quale preferite, è indifferente. Dovete raggiungere queste sentinelle e ballare. Quindi sceglietevi tre differenti sentinelle, è indifferente alla fine la vostra scelta. Ecco, magari mi prendo questa. Arrivate qua, dove c'è anche questo giocatore, vi fermate sulla testa e usate una qualsiasi emote. Sceglietevi tre, sceglietevi tre, sceglietevi tre, sceglietevi tre.